Rattler, off-site! Fide drone in attivo. Rispondete! Signore, ho perso il controllo di un drone. Sta violando i miei protocolli. Andate gli intercettori, eliminate! Ho perso un Rattler! Rattler, off-site! Alcama ha schierato i suoi luogotenenti veterani, imblinati da trasporto truppe in tutta la città. Abbiamo agganciato uno dei veicoli, nel caso lei volesse intervenire e provvedere a toglierli di mezzo. Vediamo cosa ha scoperto Nightwing sulla North Refrigeration. Se trovo il pinguino, troverò il cavaliere. Esattamente, il signorino Grayson all'aspetto sul palazzo che da sul terminal traghetti Ranelov. All'APE! All'APE! Centrale, c'è un ordigno della milizia vicino a Grand Avenue Falcon 3, chiudo E così ti aggiri ancora sui tetti? Non avresti dovuto venire, non stanotte Mi stai prendendo in giro? Quando ho saputo di Barbara? North Refrigeration, dimmi ciò che sei Il pinguino fa uscire armi da Bloodhaven su camion frigoriferi Io credo che abbia un deposito a Gotham, ma mi domando dove Cobblepot è la pista migliore per Barbara Devo trovare quel deposito di armi Se intercetto uno dei suoi camion mi porterà da loro Se solo tu conoscessi qualcuno che ha seguito i loro movimenti Cosa? Non crederai che sia venuto qui senza un piano, vero? Ci penso io Tu servi a Bloodhaven Senti Bruce, fatti aiutare Non puoi fare tutto da solo È troppo pericoloso Non rischierò di perdere altre vite Tu servi a Bloodhaven Va bene Ho capito l'antifona Ma se vuoi seguire quel camion ti servirà questo È un prototipo fresco di laboratorio Il vecchio Fox si è superato Ci si vede Bruce Posso neutralizzare